Alberto Migliore è un reumatologo di fama internazionale, responsabile dell'unità di reumatologia dell'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli di Roma, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è il presidente di Anti-Age, l'associazione nazionale per la terapia intraarticolare dell'anca con guida ecografica. Ma di che si tratta? La terapia intraarticolare è una terapia che è composta da una iniezione all'interno dell'articolazione, questo si dice intraarticolare, e lì ripogliamo dei prodotti che sono contro l'infiammazione oppure per aiutare lo stress che sta soffrendo l'articolazione. E nella fattispecie quella dell'anca è un'articolazione profonda e quindi a differenza delle altre articolazioni che sono più superficiali come quella del ginocchio, occorre una guida di imaging, una guida di immagine per essere sicuro di essere all'interno dell'articolazione. E per questo noi abbiamo creato questa tecnica con una guida ecografica che ci permette, insieme anche a uno strumento che si usa per le biopsie, di essere molto precisi, quindi di arrivare proprio dentro l'articolazione, di essere sicuri di mettere il prodotto dentro e possiamo controllare sul monitor dell'ecografo che stiamo facendo momento per momento la cosa più precisa e sicura per il paziente. Prima di procedere con la terapia serve un colloquio approfondito col paziente. Bisogna avere un colloquio attento con il paziente, un colloquio in cui si svolge l'anamnesi, ma soprattutto si comprende, si esaminano pure le radiografie, che sono lo strumento che ci dicono qual è il livello, il grado di gravità, il grado di avanzamento della malattia. Ma soprattutto con il paziente bisogna comprendere se esistono innanzitutto essere sicuri che l'origine del dolore è lì nell'anca, che l'origine del dolore è dovuto a un problema artrosico oppure capire se è un problema infiammatorio, perché a seconda di quello cambia l'approccio terapeutico, perché l'approccio deve essere personalizzato e non tutte le artrosi sono uguali. Non basta eliminare il fastidio, occorre bloccarne la progressione e far recuperare al paziente fino al 60% della funzionalità. Questo ha anche una rilevanza sociale. Ridare alle persone la possibilità di muoversi diminuisce il rischio di complicazioni di altre malattie e fa riscoprire le relazioni personali. Alla fine riducono sempre di più la qualità di vita. Riducono da una parte l'attività sociale, questo è un problema anche per quanto riguarda tutta l'economia generale, ma d'altra parte anche proprio dal punto di vista della qualità di vita psicologica, per cui loro tendono a rinchiudersi e a ridurre l'attività a causa del dolore. E d'altra parte se si muovono di meno, peggiorano le altre malattie, come la malattia del diabete oppure la malattia cardiovascolare, che richiedono al paziente di muoversi per stare meglio.